Per non compromettere la tua tranquillità al volante, verifica l'efficienza della tua vettura e viaggia sereno. Il mio Meccanico.pro ti spiegherà come prenderti cura della tua auto. Sono Pietro, Meccanico.pro. Se in auto la tua vettura non ne vuole sapere di partire, potrebbe essere colpa di candele o candelette usurate. La loro importanza viene spesso sottovalutata. La manutenzione è da fare, per esempio, quando ti accorgi che la tua auto non tiene il minimo, oppure se ti rendi conto che consuma più del solito, o se l'accelerazione avviene a stento. Una buona abitudine è far controllare la loro efficienza ogni 10.000 km. Nell'officina.pro utilizziamo sempre candele e candelette di qualità originale e equivalente, per mantenere valida la garanzia della tua auto. L'efficienza è importante! Oggi vorrei parlare di candele e candelette Bosch. Che ne dici Antonio? Parlare di qualità è sempre un'ottima idea. Infatti, con una lunga esperienza nel campo dell'iniezione, gli ingegneri Bosch progettano candelette innovative per tutti i tipi di motore, che oltre a garantire gli avviamenti a freddo, mediante il preriscaldamento, tramite la funzione post-incandescenza, garantiscono anche un funzionamento lineare e di comfort per tutti i range di carico. Ma la gamba di ricambi Bosch si compone anche di candele. Vero! E alle candele Bosch si affidano a importanti team motorsport. Bosch porta innovazione ed esperienza, dalla pista alla strada. In questo modo gli automobilisti possono beneficiare delle alte prestazioni, garantite dall'alta qualità delle candele Bosch. Vieni a scoprirle da Punto Pro. Metterci alla prova conviene! Metterci alla prova! Musica 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 Grazie a tutti.